Buongiorno Vincenzo Longo dalla sala operativa di G di Milano, partenza di settimana positiva per i distini europei nonostante le indicazioni di ebolezza arrivate dalla Cina durante il weekend. La bilancia commerciale ad aprile ha segnato un surplus in crescita ad oltre 45 miliardi di dollari, complice però un calo dell'export quasi del 2% e un vero e proprio tonfo dell'import che è sceso di quasi dell'11%. Dal punto di vista politico la settimana si apre con l'Eurogruppo straordinario e chiamato a pronunciarsi sul pacchetto di aiuti alla Grecia dopo l'approvazione della riforma fiscale sulle pensioni di ieri al Parlamento di Atene. Le misure passate in Parlamento prevedono un aumento delle tasse di circa 3,6 miliardi di euro con l'IVA che passerà al 24% dall'attuale 23%. L'Eurogruppo dovrà decidere se dare via libera alla nuova tranche di aiuti da 5 miliardi necessaria per Atene per ripagare il debito in scadenza quest'estate evitando così il default. Per ora le indicazioni danno un forte scontro all'interno dei creditori europei che vedono appunto la Germania opporsi ad un eventuale taglio del debito proposto dal Fondo Monetario Internazionale che cerca consensi anche tra i vari leader europei. Sul fronte macro la settimana appare appunto concentrata con forti dati macro nella seduta di venerdì quando saranno resi noti i dati sia sulla crescita della zona euro e le vendite poi al dettaglio negli Stati Uniti. Quindi forte attenzione proprio sul finale di settimana. Dal punto di vista trading il cambio euro-dollaro questa mattina oscilla intorno all'area di 1,14. La prima resistenza passa per 1,14,60 massimi abbandonati lo scorso giovedì. Solo un superamento di tale riferimento potrebbe gettare le basi poi per un ritorno verso l'1,16 picchi registrati la scorsa settimana. Il primo livello di supporto invece passa per 1,13,80 minimi della notte al di sotto del quale poi la discesa potrebbe proseguire in area 1,13 netto e poi 1,12,20 minimi delle ultime sei settimane. Sarà con il cedimento di tale riferimento che potrebbe aprire poi a un test verso la trendline in rialzista che congiunge i minimi crescenti da dicembre scorso e che ora passa per 1,10. Rimane debole anche la sterlina nella settimana che vedrà riunirsi la Bank of England per la sua riunione di politica monetaria. Il cable questa mattina ha tentato un test alla media mobile a 50 giorni passando appunto per 1,43,75. Al di sotto di tale riferimento si potrebbe assistere a un'estensione dei cali sino a 1,42 dove si sta portando ora anche la trendline in rialzista che congiunge i minimi degli ultimi due mesi. Al rialzo è necessario un superamento di 1,45,40 per poter sperare poi in un allentamento delle pressioni ribassiste affiorate nel corso degli ultimi giorni. Tra gli indici molto tonico appare il DAX questa mattina, tornato con prepotenza sopra l'area dei 10.000 punti dopo i dati positivi arrivati dalla produzione industriale di marzo. L'indice sembra essere ripartito con decisioni dopo aver chiuso un gap rialzista lasciato aperto a metà in area 9.760 punti. Il prossimo target rimane collocato ora a 10.100, 10.150, livello oltre il quale il mercato potrebbe tornare poi a mettere pressione a 10.600 punti. Indicazioni ribassiste si avrebbero invece con un ritorno sotto area 10.000 punti, preludio per un'apertura di nuovo a un ritorno verso l'area dei 9.730 punti. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona giornata e buon trading.